Sono Barbara Ferraris, direttore organizzativo della manifestazione Yale Conference, siamo arrivati quest'anno alla quarta edizione e siamo particolarmente contenti del successo dell'evento di oggi perché non solo per il numero di visitatori ma perché registriamo un'attenzione crescente ai temi che vengono toccati dalla manifestazione e crediamo anche con l'ausilio della nostra rivista Yale e con la pubblicazione di volumi dedicati di contribuire a dare impulso a questo settore della sanità elettronica e dell'ICT in sanità ogni anno in maniera più significativa. Ci riproponiamo per la quinta edizione di allargare questi temi anche parlando sempre più di progetti europei quindi anche all'interno della rivista, del portale, allargare quindi l'ambito non più all'ambito semplicemente nazionale ma internazionale attraverso la sinergia e la collaborazione di grosse associazioni che sempre più hanno fiducia in noi e ci danno credito.